Non so se li vedete Vedete lì? Papabas Cerco di avvicinarmi Vabbè adesso vi faccio vedere Eccolo papabas Incazzatissimo eh E prendiamo due Due scuvelini Microbus Questi vanno direttamente nel mio acquario Bellissimi, guarda qua Vedete che sono veramente molto piccolo Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. andiamo a sistemare i micro bus minchia, chissà che cazzo riesco a farli diventare grandi ci proviamo piccolini micro bus andiamo a depositare alla luce, un po' così, non troppo soffusa né troppo qui abbiamo un mega cane ecco i micro bus chissà se reggono o non reggono intanto li teniamo qua, poi li facciamo crescere e poi vediamo se farà lestino in una vasca o no per loro sono abbastanza curioso dai un saluto da Fulltimer Pesca mi raccomando ragazzi like, iscrivetevi per vedere le mie nuove avventure la maggior parte è dedicata alla pesca a GoPro a resta video